Mattia Anastasia, centrocampista del campo basso classe 2004, arrivato da poco in rosso-blu, da una settimana, dieci giorni. Com'è stato questo ambientamento? Per me è stato davvero fantastico far parte di questo gruppo, ragazzi ottimi, fantastici. Per come mi hanno accolto è come se fossi dall'inizio qui. Che idea ti sei fatto del campionato? Perché adesso c'è questa lotta che sembrerebbe limitata ai Serni e Campobasso, per il resto ci sono delle formazioni valide di centro classifica, altre evidentemente meno valide. Ma che idea ti sei fatto in assoluto? Molto dura, però noi ce la giocheremo fino all'ultimo, fino all'ultimo minuto. Il campionato è ancora lungo, continueremo con questo passo. Quali sono le tue caratteristiche? Diciamo che è da poco che faccio la mezzala, ho sempre fatto il mediano, mi sto ambientando molto bene. Sei di Trani come il mister che immagino già conoscessi? Sì, sì, mi ha allenato l'anno scorso, lo conosco molto bene il mister. La classe 2004, anche questo ti può aiutare ad essere impiegato con più frequenza? Sì, essendo under sì.